Signor Angelo Colombo, buongiorno, siamo nella sua azienda. Questa è la parte più nuova. In realtà tutto è iniziato in un piccolo garage. Certo, certo. Ho tolto la 8.50 e nel garage ho messo un tornio e da lì ho iniziato la vettura. Logicamente oggi siamo in questa zona, chiamiamo la zona nuova dove continua l'attività grazie ai figli e al nipote. Quindi siamo già la terza generazione. Questa è la terza generazione. Allora abbiamo Michele, Silvia, Denis e la terza generazione che è Marco chiamiamolo dottore. Dottore? Eh sì. Va bene. E poi c'è anche un'altra giovane donna che è Marina. Che è Marina che oggi studia ancora però anche lei è già iniziato a dare una mano in ufficio per le varie tipologie. La burocrazia per sistemare un po' di burocrazia che c'è oggi come oggi. Però la burocrazia non toglie il piacere di lavorare qua e produrre, no? No, no, no. Cioè serve anche quello però ci dà uno stimolo in più. Nonostante la burocrazia continuiamo a lavorare. Quindi per i prossimi 50 anni. Sì, sì. Quello senzato. 50 più 50. 50 più 50.